L'ha rotto! Ha rotto i cerchi! Così l'ha vissi! Ok? Vai! Benvenuti sul canale di Steppi! Oggi vi dimostreremo con un tutorial come si può smontare e rimontare il rutino di scorta Intanto vediamo la causa La gomma da piega Questa è di una moto ma dice va bene lo stesso La mettono sulla MotoGP Allora cosa stai sentendo in questo momento? Perù eh? Già siamo andavolta Questa macchina di merda Che dice? Meglio Dota o questo? Cosa preferiamo di fare? Meglio questo! Abbiamo qui il Bushy il nostro meccanico Lo troviamo Il punto G la troviamo Oh calmo! Il punto G ragazzi Non lo trovano nelle femmine figurati No torna qui niente Nelle auto Attenzione La macchina stanno smontando Poi c'è bupocchia La torcia umana La torcia umana E se non è lì rimane un pezzo Dai dice No lo sapeva perché Allora in questo momento potremmo Oh possiamo Possiamo osservare il nostro esemplare di Stefano Lepri che sta cercando di sollevare la sua auto Guardate com'è bravo Vai Però aspetta Noi devi sviluppare i bulloni Sennò non c'è forza a terra Cosa? Cosa? Vedi quando la macchina è alzata Con questo sui bulloni I bulloni non si sviluppano Basta bloccarla Basta mettere la mano Che facessi a terra Ma se sta sollevando Quindi la sta sollevando E la sta riabbassando Perché così si fa i muscoli Dice Ce ne è per una sedia Vabbè buona Ma questa papalina brutta Dovrei comprare Davvero? Ma non ti vergogni C'ho la testa U Guardate si disiscrive Ti si disiscrive Ti si disiscrive Oh Ti ha appedato Attenzione La prendo e l'ha appedato Oh aspetta Fa una cosa Prepari il numero delle tomate Rotto Rotto tutto Vai Io farei prima a chiamare un carro a prezzo Ma hai 200.000 iscritti Dove sono ora? Guarda anti-orario eh Non l'orario Io forse te chiamerei qualche fan Anti-orario? Eh? Anti-orario si smonta A vera si monta anti-orario? Prima l'ha... L'ha montato Oh me lo fai fare a me Ti rompio la mano È un meccanico È un meccanico Così Guarda l'ha rotto L'ha rotto L'ha rotto L'ha rotto? L'ha rotto L'ha rotto i cerchi Così l'ha viti L'ha viti L'ha viti L'ha viti L'ha viti L'ha viti Avevi detto anti-orario L'ha viti L'ha viti Capiti Beh che dire Penso che il secondo canale sia anche per questi video un pochino fuori dal normale Dove la mia macchina decide di lasciarmi parzialmente a piedi Se non avessi avuto il rotino di scorta infatti non sarei tornato a casa E vabbè ragazzi Buon anno e buone feste Buon anno